Benvenuti a Parkinson Svizzera. La nostra organizzazione non profit si impegna dal 1985 per le persone affette dalla malattia di Parkinson. Nei nostri tre uffici di EG, Losanna e Mezzovico assistiamo più di 5.000 membri. Il nostro lavoro verte su 5 pilastri, informazione, consulenza, autoaiuto, corsi di perfezionamento del nostro personale specializzato e sostegno alla ricerca. I canali informativi di Parkinson Svizzera sono la rivista Parkinson, la pagina web www.parkinson.ch, gli opus con informativi, i libri, i supporti a audio e video. Inoltre, organizziamo giornate informative, corsi, seminari e vacanze di svago per i pazienti di loro familiari. Il nostro personale qualificato del settore sociale assistenziale offre consulenza alle persone colpite per tutte le questioni che attengono alla malattia, alle assicurazioni sociali, all'autoaiuto, alla lotta quotidiana ed alla cura. Nel nostro shop offriamo vari distrumenti di aiuto a prezzi vantaggiosi. Alle domande di Natura Medica rispondono i nostri medici della commissione consultiva. Chiamate il numero gratuito Parkinson 0800 80 30 20. Parkinson Svizzera sostiene a fianca più di 70 gruppi di autoaiuto. Si impegna per la formazione continua e il perfezionamento del personale specializzato medico ed infermieristico e sostiene la ricerca per la patologia. Grazie ad un fondo di solidarietà garantiamo un valido sostegno economico ai membri che hanno bisogno di aiuto a causa della malattia. Parkinson Svizzera è finanziato con contributi legati a offerti dei privati. Sostenga anche lei, Parkinson Svizzera. Contribuirà a fare in modo che possiamo aiutare. Comparcia